Chiara Ferragni Chiara Ferragni, borse di cioccolato e Tour Eiffel di Fiorin Suite Ecco la location preferita di Chiara Ferragni dove, quando si trova a Parigi, si sente davvero come a casa sua. . Il trattamento nei confronti della fashion blogger è davvero ricco delle più amorevole attenzioni e, come in questo caso, fatto di sculture a forma di borsetta e scarpe di cioccolato e Tour Eiffel di Fiori. Chiara Ferragni, una suite fantastica, dove sentirsi a casa sua. . Ogni volta che va a Parigi, Chiara Ferragni non può fare a meno di prenotare la sua suite preferita, stiamo parlando delle Royal Monceau, uno degli hotel più lussuosi ed eleganti che si siano mai visti. . Nella sua stanza, che sembra piuttosto un confortevolissimo e meraviglioso appartamento privato, la fashion blogger più in del momento si sente davvero coccolata e in famiglia. . Partiamo dai vizi golosi, su un tavolino della sua immensa camera d'albergo trionfa una scultura composta da decoltè e borsetta, interamente realizzate con il cioccolato. . I dettagli sono talmente precisi che, a prima vista, potrebbero quasi sembrare vere accessori che fanno parte dell'immenso guardaroba della neo trentenne. Invece, si tratta di le cornie a 5 stelle, che mandano in estasi Chiara. . . Attraverso le sue Instagram Stories possiamo fare un tour privato in quella che sarà la sua casa per almeno una settimana, visti gli impegni con la Paris Fashion Week, ed ecco che spuntano altre coccole lussuose. . Come un immenso soprammobile estremamente chic, sorge una Tour Eiffel decorata con fiori e fiocchi rosa scuro e confetto, ammiccando a uno dei colori preferiti della Ferragni. . Si vede che quest'hotel super chic la conosce bene. Si continua con il video, e appaiono anche palloncini gonfiati ad elio, sempre rigorosamente total picnic. . Infine, ecco la sorpresa che, forse, Chiara Ferragni proprio non si aspettava, sopra uno degli elegantissimi comò appare anche comunistico il Rolex, il CD di Fedezzei Lunga Ax che ha trionfato per tutta l'estate grazie a Senza Pagare, uni dei tormentoni più ascoltati in radio. . . Insomma, Chiara è felicissima per questa accoglienza incredibile e forse la lontananza del suo fidanzato, con tutte queste attenzioni, si farà sentire un po' di nino. . 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 Spersta per cominciare uno dei periodi più intensi dell'anno con l'inizio, tra poche settimane, dei live della nuova edizione di X Factor. Pare che anche Chiara Ferragni sia stata ospite del talenti in un qualche modo ancora non ben chiarito, ma presto, con l'avvicendarsi delle puntate del giovedì sera, lo scopriremo. Grazie per la visione!